Un arresto e due denunce, questo il bilancio dei controlli disposti a cavallo dell'Epifania dalla compagnia Carabinieri di Fano, che ha visto impegnati tra gli altri i carabinieri della stazione di Fossombrone e il personale del nucleo Cinofili di Pesaro. Sono stati controllati diversi locali e pubblici esercizi del posto, gli avventori ed anche i gestori, verificando la regolarità delle autorizzazioni amministrative e delle attività di somministrazione. In uno di questi locali militari hanno proceduto al controllo di un 24enne del posto in evidente stato di alterazione da abuso di bevande alcoliche. I carabinieri che già conoscevano il giovane hanno ben pensato di ritirargli improvvisamente le chiavi della macchina, con lo scopo di evitare che il ragazzo in quello stato si potesse mettere alla guida del mezzo. Ma nei pressi della stazione dei carabinieri però l'epilogo, davanti ai genitori convocati per la riconsegna del mezzo, il giovane ancora in stato di alterazione ha improvvisamente e immotivatamente aggredito con pugni e calci militari presenti, i quali non hanno potuto far altro che bloccarlo e dichiararlo in stato di arresto. Nella mattinata odierna si è svolta l'udienza di convalida richiesta dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Urbino. Il giovane è stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora e di permanenza in casa durante l'arco notturno. Sempre nel corso degli stessi controlli, grazie anche all'utilizzo dell'unità cinofila antidroga, un giovane del posto di 32 anni è stato trovato in possesso di circa 2 grammi di cocaina e denunciato, come ha anche denunciato il gestore di uno dei bar sottoposti ai controlli per somministrazione di bevande a persone in stato di manifesta ubriachezza ed i clienti sono stati a loro volta multati per ubriachezza molesta in luogo pubblico.